In compagnia del grande mister Bruno Pace un voto al mercato del Pescara e poi le chiedo anche dove può essere migliorata questa squadra. Il voto adesso vedremo più avanti, la squadra era forte già prima e quindi insomma con un po' di attenzione, un po' di lavoro, di fortuna e anche qualche spunto anche al di fuori delle righe del tecnico con un po' più di ottimismo, un po' di così eccetera, è una squadra che ha avuto troppi alti e bassi per cui non so se potrà arrivare ma tecnicamente è una squadra che può ambire sicuramente ai playoff. C'è stato il ritorno di Sansovini, uomo assolutamente gradito dalla piazza, è andato via a maniera. Ma non dobbiamo pensare che sia stato preso Sansovini per il gradimento della piazza e per l'affetto che uno ha per lui, per il capitano, per il sindaco. Sansovini è uno che secondo me in alcune partite, almeno per molti spezzoni di partita, può far valere ancora il suo guizzo, il suo fiuso del gol e quindi dare una mano al Pescara, soprattutto in casa dove il Pescara è stenta. C'è ancora il nodo legato a Gaston Brugman che per il momento non è titolare, quale soluzione attuerà Baroni per sfruttare il talento dell'Uruguagio? Togliere un altro talento che può essere Selassie e roba del genere, penso. La situazione non è molto chiara, Brugman è uno che in questa Serie B ci sguazza perché è un elemento di categoria superiore, però viene da un infortunio lungo, vediamo anche esempi più importanti, ci vuole tempo per rientrare un po' nella forma dovuta. Rientrare Brugman è d'accordo, ma si penalizzerebbe troppo questo ragazzo Selassie che per me è stato un po' la svolta del Pescara perché è uno che parla poco, cos'è però, lavora, contrasta, aiuta eccetera. Ecco, se io fossi allenatore al primo anno, prima di aver preso le batoste che ho preso in quelli successivi, magari farei qualche colpo da matto ogni tanto, far giocare tutti e due, magari Selassie, anche se questo può far ridere, magari portarlo dietro al centro della difesa, un po' avanti ai tre marcatori eccetera così, e Brugman nella sua posizione di centrocampista. Ma questa è una cosa un po' da matto, che Barone non farà mai perché Barone è molto serio rispetto a me.